Come ti chiami? Lorenzo. Anno. Quanti anni hai? 26. 22. Che ruolo hai in questo triennio? Responsabile ACR. Vice responsabile ACR. Cosa fai nella vita? Responsabile tecnico in un'azienda dei servizi. Studi italianistica. Mare o montagna? Montagna. Montagna. Dolce o salato? Salato. Salato. Vino o birra? Prima il vino e poi la birra. Vino. Una cosa bella della C? Che fa sentire tutti bene, cioè dona più che quello che chiede. L'accoglienza. Perché hai detto sì? Perché mi hanno obbligato e perché voglio portare un po' più di innovazione nel mio settore. Perché l'ho sentito una chiamata per me e l'ho vista come una bella occasione per mettermi a servizio della C e della CR. Qual è un talento dell'altro che porta in AC? È molto brava ad ascoltare e di conseguenza dare consigli. Sa coinvolgere tutti dai più piccoli ai più grandi.